Onorevole, lei ha sostenuto e sostiene le ragioni del no, ma soprattutto sostiene un'altra alternativa che è quella di astenersi dal voto. Completamente, perché ritengo che sia un referendum inutile, che non incide completamente sul futuro della politica di tipo energetico. Voglio premettere che sono stati tra quelli che anche alla Regione ha votato no per non fare il referendum. Quindi io sono in coerenza con quello sul mio voto che ho fatto alla Regione perché ritengo che le trivelle facendo parte del protocollo d'intesa per Gela votare sì potrebbe avere il significato di un rischio per i posti di lavoro che verrebbero a essere integrati con il protocollo d'intesa. Questa posizione non è in spregio ai principi della nostra democrazia partecipata che ci dà l'opportunità comunque di dire la nostra su argomenti molto importanti? La domanda mi piace, è molto intrigante, però io penso che libertà significa anche libertà di non andare a votare. E di sprecare un sacco di soldi per organizzare questo referendum? Il referendum lo ritengo inutile perché il quesito così come posto non ha nessun significato pratico, come dicevo prima, però innalzare il livello culturale nostro e della gente e conoscere di più sicuramente non è uno spreco. Io andrò a votare no perché ritengo questo referendum sia imparziale e insufficiente. Detto questo però per la prima volta nella mia vita capisco le ragioni del non voto e le sostengo perché effettivamente così come questo referendum non dà sufficienti risposte, non cambia nulla e rischia di essere semplicemente purtroppo, essendo io profondamente democratico e convinto che in tutte le partecipazioni bisogna andare a votare, ma questa volta anche io capisco chi sceglierà di non andare a votare il rispetto. Una ragione per il no? Attualmente così com'è questo referendum è insufficiente, se si dovesse vincere il sì non cambierebbe nulla, di fatto noi ci troveremmo in una situazione in cui solo un pezzo della produzione avrebbe delle difficoltà oggettive, cioè solo nella trivellazione rispetto a quello che è il mondo complesso degli idrocarburi, che è ben altra cosa. Pensate che non si possa verificare o sia molto difficile che si verifichi uno sversamento? La causa principale di inquinamento al mare è la mancanza di depurazioni e lo sverso delle acque direttamente al mare. Non mi risulta che attualmente nel paese ci siano delle fonti di inquinamento dovute alla trivellazione, quindi noi abbiamo la certezza che c'è una certa sicurezza, ma non è il tema. È chiaro che rispetto a un processo di produzione industriale di qualsiasi tipo ci sono dei rischi. Il punto è se noi vogliamo continuare a essere un paese all'avanguardia e in questo caso una città all'avanguardia che mantiene un processo industriale, oppure vogliamo perdere questo processo industriale per dedicarci all'ingertezza. Però su una cosa voglio essere chiaro, io sono convinto che il futuro siano energie alternative, ma questo lo possiamo costruire solo nel tempo e negli anni.